Braccia incrociate e bandiere in piazza per i lavoratori telecom che il 30 giugno, in occasione dello sciopero nazionale proclamato dalla SLC-CGL, si ritroveranno nella piazzala antistante la sede di San Rottino. Tante le motivazioni della protesta, a partire dal caring, il controllo a distanza, nonostante un referendum abbia respinto l'ipotesi che prevede il controllo totale a distanza e il monitoraggio quotidiano delle prestazioni, la registrazione delle conversazioni e archiviazioni in apposite banche dati per l'elaborazione di studi di settore sulle esigenze del cliente, a partire dalla codificazione delle sensazioni espresse, Ora il governo ha approvato la procedura, concedendo alle aziende una liberalizzazione dei controlli. Ma i lavoratori protesteranno anche per il mancato finanziamento della solidarietà espansiva, che avrebbe dovuto portare a 4.000 assunzioni. Ora non solo quelle assunzioni non ci saranno, spiega Daniele Carchidi, segretario generale SLC-CGL Calabria, ma parrebbe che Telecom Italia sia pronta a dichiarare un cospicuo numero di esuberi nei prossimi mesi. Grazie per la visione!